Questa è grossa Potete notare la canna come è piegata Guardate bene Guardate come sforza mister pescatore Mi ha messo quanto tempo, quasi un'ora per riuscire a capire come prenderle Quando è stato tutto chiaro è stato un gioco da ragazzi E tutti gli esemplari di più grande mole Dai che c'è La località della pescata qua è il lago d'oro Non ci vergogniamo ma siamo vicini a casa Stacc Eccola qui Un'altra carpona gigante Siamo già a 4 o 5 Già solo in 5 minuti Ok stop